oggi ho visto questo un bacchettino tipo dei lattici da pesce a mio letto vedete quel pacco ciò ochi ma sono divisa devi esagerare guarda che io ti sto rimproverando hai capito che ti sto rimproverando io ti sto rimproverando io hai capito ti stai capendo io ti sto rimproverando e basta lo devo fare te lo do uno schifone te lo do uno schifone te lo do uno schifone vieni che ti do uno schifone vieni vieni doi te lo do uno schifone non lo schifone non lo schifone non lo vediamo dove stai passando non lo schifone mi fai vedere un po' non lo schifone io mi fai vedere un po' ma non lo schifone mi fai vedere un po' ma non lo schifone mi fai vedere un po' non lo schifone int tension non lo schifone ma non lo schifone polko sinudo son ma non lo schifone la faccio per farmi lì per farmi lì per farmi lì Orecchietta, si senti orecchiettino. Orecchietta, si senti orecchietta, si senti orecchietta. Orecchietta, si senti orecchietta. Orecchietta, si senti orecchietta. E occhietta, si senti orecchietta. Grazie a tutti.